Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube Parliamo di calcio mercato, perché il Milan ha salutato, abbiamo detto già Luigi Donnarumma L'ha confermato, l'ha ufficializzato ieri Paolo Maldini su Twitch, sul canale ufficiale del Milan E quindi il Milan saluta Donnarumma e ha già acquistato il nuovo portiere rossonero che sarà appunto Mike Magna Probabilmente saluterà, se non ci saranno che l'amorosi, colpi di scena anche a Cancelanoglu A Cancelanoglu che molto probabilmente dovrebbe sposare la causa del Qatar Visto che gli offre 8 milioni all'anno più 8 milioni alla firma E quindi veramente una cifra da capogiro che nessuna squadra europea è pronta chiaramente a pareggiare Quindi che cosa succede al Milan? Il Milan che ha perso anche Mario Mandzokic che non giocherà nella stagione 21-22 con la maglia rossonera Molto probabilmente perderà anche Diogo Dalot che non verrà, che Milan era in prestito secco Quindi dovrebbe andare a trattare col Manchester United Ha perso per il momento anche Brahim Diaz perché fino a quando il Real Madrid non nominerà il nuovo allenatore Brahim Diaz Non si saprà e non si conoscerà il futuro del malaghegno E quindi il Milan si trova però diciamo indebolito chiaramente, inevitabilmente dopo queste partenze E soprattutto in una stagione come la prossima, la 21-22 dove il Milan giocherà tante partite Dove il Milan giocherà in Champions League, urgono rinforzi È chiaro, il mercato non è ancora iniziato, c'è ancora tantissimo tantissimo tempo Però io sono convinto che la dirigenza rossonera debba fare almeno 3-4 acquisti di livello Oltre alla conferma che non considero di Tomori che è imprescindibile Servono 3-4 acquisti di livello che possono permettere al Milan di alzare notevolmente la sticella Andrà a prendere Giroud? Probabilmente sì, come costo opportunità Ma andrà a prendere anche un altro attaccante, magari cedendo Aughe in prestito Focalizzandomi, come ho già detto in alcuni video, in Leao e Rebic come esterni 3-4 di sinistra E non più come punta, perché abbiamo visto che il rendimento non è all'altezza Non riscatterei Meite e Terrei come centrorampisti che sì, Benasser, Tonali E lì inserirei un altro giocatore di livello, un giocatore che possa alzare ulteriormente la sticella Tenendo sempre come jolly Krunic Andrei alla ricerca di un esterno destro forte che possa alternarsi con Saleme Kerr E quindi da cedere Castilleco Probabilmente nel reparto di trequartisti centrali servirebbe lì un paio di acquisti importanti Perché c'è la Noglu, probabilmente non rinnova Brian Vietz difficilmente tornerà al Milan se dovesse andare Allegri al Real Madrid Perché piace molto all'allenatore toscano Quindi bisognerà vedere cosa succederà lì nella trequarti Bisognerà capire quale sarà il futuro di Romagnoli Perché molto probabilmente a scadenza di contratto anche lui il prossimo anno Il Milan cercherà di venderlo Se no rimarrà probabilmente ai margini del progetto rosso-nero Bisognerà capire quale sarà il futuro alternativa a Calabria Se punterà il Milan, se punterà su Calulu O se deciderà di acquistare un nuovo terzino Perché rientrerà anche Conti In mezzo rientrerà anche Caldara E a sinistra rientrerà l'Axalt come vice Teo Hernandez Ma il Milan sembrerebbe che non sia disposto a, in qualche modo, avere come alternativa l'Axalt Quindi proverà a cederlo e proverà ad acquistare un nuovo terzino sinistro A fiancare a Teo Quindi ci sono tantissimi dubbi Ci sono tantissimi enigmi Ci sono tantissimi incognite su quello che sarà la rosa 21-22 del Milan Una cosa è certa Serve alzare l'asticella Serve alzarla notevolmente Perché il prossimo Serie A sarà una Serie A molto difficile Davvero difficile Perché l'Inter sembra che si ridimensioni A seguito del debito Ma comunque è una squadra che sarà competitiva per la zona Champions League Sarà competitiva la Juventus Sarà competitiva la Roma di José Mourinho Molto probabilmente se Spalletti dovesse andare al Napoli Si deve essere anche il Napoli molto competitivo C'è sempre la Lazio C'è sempre l'Atalanta E quindi c'è veramente tanta, 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 tanta concorrenza E quindi serve il Milan che alzi l'asticella Perché come detto Paolo Maldini Serve consolidare la Champions League Serve che diventi abitudine del Milan A ritornare a partecipare in Champions League Per aumentare i ricavi commerciali Per aumentare gli sponsor E quindi serve veramente un mercato da Milan Cosa c'è da dire anche Che il Milan sicuramente Diciamo punterà sempre Andrà avanti con la sua filosofia Quindi una filosofia di giovani Di grande talento E di giocatori di esperienza Quindi con questo mix Il Milan spera di crescere Nei prossimi anni Noi siamo convinti Della bontà Del buon lavoro Fatto dalla dirigenza Siamo convinti ancora di più Che grazie alla Champions Il Milan potrà finalmente Fare un mercato davvero importante Non so cosa ne pensate voi amici di Rubrica Rosso Nera Fatemelo sapere nei commenti del video Come sempre se vi è piaciuto questo video Vi chiediamo di mettermi piace Di condividerlo E di iscrivervi al canale YouTube Di Rubrica Rosso Nera Grazie a tutti